Oggi andremo a fare un box opening con ben due, tre, quattro, cinque ceste, cinque casse, cominciamo, due skip, monete, il punto di energia per Frank e il punto di energia per Maxine. Cesto normale, monete, Brock e Bo, bello, però bello, voglio guadagnare qualcosa, dai dai dai, monete, tre skip, punti energia Bull, dai potrebbe capitare un Brawler, potrebbe capitare un Brawler, Un, e non luccica, tre oggetti, io oscuro, io oscuro le, oscuro gli oggetti, luccica, ragazzi luccica, ho visto adesso che luccica, Brawler, semino, ragazzi, contento, contentissimo, Adesso ho visto che ho trovato semino, che sono veramente contento, lo andiamo a utilizzare in partita, Svegliamo l'ultima ceste, che non credo che faccia la differenza, ok, Un nuovo Brawler, mitico, che, secondo i miei gusti, mi piace molto, che almeno ho un nuovo Brawler, Bello, mi piace, andiamo sul negozio e vediamo se c'è qualche sua skin, Andiamo a vedere su il Brawler, guardate quante me ne mancano, ma me ne mancano tipo 5, sì 5 me ne mancano, Iris, Mr. P, Spike, Gelindo, e Energetic, ok, vediamo, ho messo Rappi, ho messo, ho messo, Beh, mi piace, mi piace, Beh, mi piace, ok dai 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 cerchiamo ok mettiamo questo così non hanno più difficoltà ok va bene vi è scurato ok vinto ragazzi bellissimo è proprio bello il bro è anche forte io questo non lo pubblicherò oggi il video che ho detto questo video non lo pubblicherò oggi perché già ho pubblicato due video di ballstarts e il pubblicherò domani il pubblicherò domani è il giorno passato il prossimo giorno il 17 credo il pubblicherò penso lo vorrei solo potenziare ok ok Un problema? Un problema, un problema, un problema. ok vinta è veramente fatti ho vinto anche i 250 punti vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanellina per non perdervi nessun altro nuovo video e ciao